Buonasera Padua Fred Village, benvenuti. Abbiamo trovato qui due avventrici. Come vi chiamate? Martina. Chiarina. Dove siete? Mugliano e tu? Mi piace il Village. Voi lo sapete che finirete su YouTube, vero? Ma anche no. Mi raccomando, all'interno alle 22 c'è la day giusta preparato. È una torna di Cambretti Night. Vi aspettiamo. Le nostre due amiche vi mandano un bacio. E un bacio a tutti quanti. Vi aspettiamo. Ciao, ciao. Ciao.